Dopo aver finito di lavorare quest'estate, volevo seguire la mia grande passione, che era quella di lavorare all'interno del calcio. Dopo circa due o tre mesi di accurata ricerca, sono riuscito a trovare questo corso su internet e contattare immediatamente Simone, che appunto mi ha fatto vedere tutto il programma che si parlava del calcio a 360 gradi e ho sposato subito questo progetto e sono partito da Roma, quindi vi consiglio a tutti i ragazzi che vogliono interprendere un percorso di questo genere, che hanno passione per il calcio e conoscere il calcio in tutta, in Todas, e di sposare questo progetto perché ci sono professori e ci sono insegnanti che sono molto validi, che oltre ad essere appunto insegnanti sono anche professionisti all'interno del calcio, quindi consiglio vivamente a tutti.